Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio TP Termometro Politico di oggi, mercoledì 15 maggio 2024. Le intenzioni di voto politiche europee. Fratelli d'Italia al 27%, il PD al 19,6%, il Movimento 5 Stelle al 16,2%, la Lega all'8,8%, Forza Italia noi moderati 8,6%, Stati Uniti d'Europa 4,9%, Sinistra Verdi 3,9%, Azione 3,8%, Libertà 1,9%, altri partiti 5,3%. Sondaggio rispetto alla settimana precedente. Grazie a tutti per avermi ascoltato e arrivederci a presto.